e siamo live siamo live siamo live siamo live siamo live benvenuti a tutti in questa nuova entusiasmante puntata di di pen crimini io sono palla e anche stasera dopo la serata di ieri torniamo live con una live imperdibile ovviamente io appena vado live il cane si alza e si scrolla perché se non c'è almeno una scrollata di camilla camilla su ok se non c'è almeno una scrollata di camilla in ogni puntata la punta questo sta diventando il nuovo la nuova cochina zero no cioè camilla quando dico siamo live si alza e si scrolla ma noi piace così ciao la masi chieri sera non c'eri e ti sei perso una bella puntata magari l'hai sentita però ti sei perso una bella puntata su andrea bontade che appunto secondo me è stata una bella puntata sono contento vi sia piaciuta vi ringrazio sempre di tutto il supporto che ci state dando i pot stanno andando molto bene siamo molto contenti vi ricordo sempre che oltre a di pen crimini abbiamo anche cioè andrea che sta facendo con grande dedizione di penscienza che esce tutti martedì con una live intorno all'ora di di po prima di cena all'ora dell'aperitivo quindi se martedì mentre bevete un vostro sprezzino avete voglia di ascoltare qualche pillola di scienza molto molto utile vi consiglio appunto di penscienza oppure ascoltatelo vi ricordo se non vi dispiace di seguirci sui social in particolar modo su telegram e su instagram quindi di lasciare di followerci e di lasciarci tanti bei commenti se volete supportarci avete i soliti modi patreon subscription su prime gratuita pagamento donazioni quello che volete andate sul nostro sito è tutto spiegato e a noi davvero aiuta in maniera incredibile ma ciancio alle bande bando alle ciance detesto questa espressione però non so perché quando sono live sono un po più teso perché voi dovete sapere che nonostante questa sia l'ixesima live che faccio c'è sempre quella tensione soprattutto all'inizio quando sei un po freddo e quindi quando sono teso dico sempre cose che non sopporto ciao giulia buonasera andiamo live e cioè siamo già live volevo dire partiamo con la live anche se di solito la gente partirà al minuto 3 ma io oggi parto prima perché in realtà ho scoperto che le live leggerissimamente più corte soprattutto quando ne faccio due di fila in realtà sono molto lineari ringrazio la masic per i complimenti che mi fa per la puntata di ieri di cui devo dire la verità per una per una delle prime volte sono molto fiero della puntata di ieri nel senso che penso sia venuta molto bella e ed è durata un pochettino meno è stata un po più concentrata no ciao elena benvenuta e quindi quando secondo me sono leggermente più corte però magari appunto come in questo weekend ne faccio due quindi abbiamo più contenuto complessivo ma in due spaccati leggermente più brevi secondo me funziona tutto un pochettino meglio chiedo soltanto a qualche patreon se c'è o a qualcuno che è nel e grazie mille a twitch snesra che si è abbonata a amazon prime grazie mille con amazon prime scusate grazie mille chiedo soltanto a qualche patron o a qualcuno che c'è anche su telegram di mettere i link su punto su telegram in modo che tutti possano vedere la live grazie mille a twitch snesra ti mando un bacio un abbraccio e un cuore allora puntata di oggi puntata di oggi che si chiama i reti satanici mi sembra di averla chiamata grazie mille a le carlotta grazie mille puntata si chiama i reti satanici ma in realtà non parte con i reti satanici e qui poi vi spiegherò perché ma è un continuo immaginario della puntata precedente ovvero cioè non è vero nel senso che la puntata precedente dedicata a eccolo qua scusate stavo cercando una pagina che mi serviva per dopo puntata precedente dedicata ad andare a bontà del suicidio indotto e vorrei continuare su questo filone dei suicidi indotti argomento in realtà come già ho accennato ieri abbastanza subdolo perché nella repubblica italiana nella repubblica italiana credo che ci siano stati sicuramente meno di cinque secondo me sono stati addirittura zero però avevo letto questa statistica anni fa e non me la ricordo come dicevo ieri ho il dubbio che siano 0 o 3 ma oggi non ho avuto tempo e modo di ricontrollare comunque per farvi capire che i suicidi indotti confermati quindi passati in giudicato sono davvero molto molto pochi quindi questo per far capire la complessità anche dell'argomento settimana prossima tratteremo tutti i gli omicidi i suicidi indotti le sparizioni diciamo tutte le morti legate indirettamente alle bestie di satana oggi parliamo però di un altro suicidio indotto di andrea ballarin che magari non si chiama andrea però un poverino andrea ballarin sì infatti che non è parente di elisabetta ma fa parte di ballarin perché è molto emblematico per me e mi serve un po' a introdurre ciao lucrezia no ma tu non sei mai in ritardo lucrezia abbiamo appena iniziato ho farneticato cinque minuti di nulla lucrezia mi fai un piacere perché non riesco a vedere telegram mi riesci a condividere i link su telegram grazie mille e ovviamente tutti ad ascoltare la version la piano version di la piano version di my way di lucrezia su youtube detto questo il suicidio indotto è un argomento molto complesso perché è molto difficile da provare che un'altra persona possa aver direttamente causato il suicidio di una appunto della vittima oggi è un po' più facile ieri cita un documentario che trovate su youtube che io vi invito a vedere ovviamente io non ci guadagno nulla da questa cosa ma vi invito a vederlo perché secondo me è molto interessante se vi piace il crime se siete qua vi piace il crime e quindi vi piaceva quel documentario l'unico downside è che dovete parlare cioè dovete avere un buon un buon inglese un buon inglese dovete capire l'inglese perché appunto è in americano ed è un documentario su michelle carter storia torbida se ce n'è una e soprattutto vi fa capire davvero la complessità dell'argomento suicidi indotti che appunto sono molto sporadici nella storia della repubblica italiana ma che nel caso delle bestie di satana in realtà affiorano come uccellini in primavera io ieri ho immaginato il movente il motivo per cui Andrea Volpe e in parte anche Pietro Guerrieri e Mario Maccione ma soprattutto Volpe continui a insistere su questi suicidi indotti innanzitutto perché successivamente adesso in Italia è depenalizzato non credo che si sta più cioè circonvenzione di incapace mi sembra l'avevo letto una roba del genere comunque la cosa fondamentale è che secondo il mio parere ad Andrea Volpe confessare una serie di suicidi indotti risultava molto utile per due motivi il primo per avere merce di scambio con l'autorità cioè più vi confer più cose vi faccio intuire che conosco meglio sarò trattato e più sarò in grado di barattare prima cosa perché se io vi faccio se io vi dico immaginate la situazione confesso quattro omicidi sostanzialmente cioè Chiara Marino Fabio Tollis Andrea Bontade e Maria Angela Pezzotta ok però vi dico attenzione voi pensate che questi siano tutti gli omicidi di tutte le morti legate alla setta alle bestie di Satana no ce ne sono 20 30 50 a quel punto cosa succede succede che le forze dell'ordine in modo doveroso devono continuare a indagare quindi devono continuare a chiedere hanno bisogno a quel punto di volpe non sono non è volpe che ha bisogno delle forze dell'ordine quindi volpe passa in una situazione più di controllo di potere l'altro grosso vantaggio è che volpe confessando soprattutto il suicidio assistito il suicidio indotto di Andrea Bontade diventa credibile diventa sempre più credibile con le forze dell'ordine che all'inizio non erano così proni a fidarsi di lui ma soprattutto il rinvenimento dei corpi di Chiara Marino e Fabio Tollis fa sì che volpe diventi una specie di oracolo che tutto dice e tutto sa una storia che vi voglio raccontare in pochi minuti stasera perché non è una puntata dedicata a lui è quella di Andrea Ballarin nato nel 77 a Gallarate e ha una storia molto simile quella di Andrea Bontade che oltre al nome appunto condivide condivide anche altre cose viene ritrovato nella scuola geometri di via 25 Aprile a Somma Lombardo si è portato un cavalletto per impiccarsi la corda e addosso una boccetta di darchene nessuno sia mai posto alcun dubbio su questo suicidio e avviene scusate mi sono indicato di dirvelo è il 6 maggio del 1999 quindi l'anno dopo la morte di Bontade Tollis e Marino a un certo punto Andrea Volpe confessa questo omicidio questo suicidio indotto io lo chiamo sempre omicidio ma ci siamo capiti che intendo suicidio indotto cioè dice che Nicola Sapone che per Volpe è onnipresente onnipotente e onnisciente questa volta c'è un'aggiunta perché poi dopo parliamo del grande capo della setta cioè Paolo Ozzileone che però non è mai presente nei nostri racconti questa volta c'è anche Paolo Ozzileone e ovviamente c'è anche Andrea Volpe come al solito contro voglia perché nei suoi racconti lui c'è sempre lui fa sempre tutto però sempre obbligato da Satana da Sapone da da Pinco Pallo quindi questi tre personaggi decidono di uccidere Andrea Ballarin poiché c'è stata una discussione molto accesa in un bar discussione documentata da vari testimoni ma discussione come ce ne sono tantissime tra Nicola Sapone e Andrea Ballarin a quel punto Ozzile decide Ozzileone che è Paolo Leoni decide insieme agli altri due amici che Andrea Ballarin deve essere fatto fuori anche perché Andrea Ballarin voleva e stava cercando in tutti i modi di uscire dalla setta il problema anzi scusate ho sbagliato una cosa disse questa volta Mario Maccione disse che Zampollo e Monterosso avevano programmato questo omicidio cosa succede? succede che drogano secondo il racconto di Volpe drogano Andrea Ballarin lo portano con la Peugeot 200 con una Peugeot 205 davanti a questa scuola con Volpe che guida il suo motorino per lasciarlo lì salgono tutti e tre più e sul tetto della 205 e lanciano il corpo sopra un cancello gli fanno fare un volo di tre metri e tutto ciò lui non si risveglia e lo impiccano lo impiccano e simulano questo suicidio e gli inquirenti sono estasiati da questa cosa sono felicissimi di un'altra cosa al che ci sono due problemi che vengono immediatamente fuori la cosa divertente è che Mario Maccione e Pietro Guerrieri dicono sì sì abbiamo sentito che c'erano state delle voci sapevamo che che c'erano state che c'erano state queste appunto queste voci sapevamo che il gruppo si parlava di questo suicidio indotto e infatti il PM Masini che è il PM che citavo l'altro giorno e che sostanzialmente ha creato le bestie di Satana è quello che diceva del serpente che va al simbolo il PM Masini dice è sicuramente stato un omicidio quello di Andrea Ballarini perché ce ne parla Volpe lo feceva fuori perché faceva il gradasso al bar anche questo era un omicidio sacrificale perché veniva dedicato al demonio in pratica il gruppo andava in giro cercando di ammazzare gente per un non nulla per offrire quei delitti a Satana fin qua nulla di particolarmente strano cioè ci può anche stare se crediamo stasera cerchiamo di capirlo finalmente definitivamente alla teoria delle bestie di Satana come quello che ci è stato raccontato problema numero uno Andrea Ballarin nel momento in cui gli viene fatta un'autopsia visiva non credo sia stata fatta un'autopsia che sia stato effettivamente aperto non mostra nessuna traccia di lesione da caduta cioè non ha tracce non ha nessuna ferita nel racconto viene lanciato sopra un cancello da tre persone e viene lanciato appunto da questi due tre metri un cancello quindi non ha nessun segno di caduta ha delle droghe nel sangue ma Andrea Ballarin aveva preso una via della tossicodipendenza quindi ci si aspettava i genitori si aspettavano di trovare tracce di droga nel sangue ma poi c'è un altro problema i legali di Nicola Sapone portano dei biglietti che dimostrano che il giorno ma in realtà tutta quella settimana Nicola Sapone non solo non poteva aver commesso era a Cuba c'era dall'altra parte del mondo e quindi sostanzialmente si fa cadere questo suicidio indotto perché sostanzialmente di fronte a queste due prove Andrea Volpe confesserà che aveva detta una cazzata questo perché ho voluto iniziare la puntata così perché è molto facile credere a tutto quello che dicono i testimoni soprattutto a tutto quello che dicono gli indagati soprattutto quando non ci sono prove le confessioni vanno sempre pesate vanno sempre contestualizzate vanno sempre capite anche bisogna sempre intuire se c'è un vantaggio da parte di queste persone nel confessare perché non è ovvio non è sempre ovvio e quindi la setta satanica in realtà è fatto anche da persone che guardano stranamente al proprio interesse ma cerchiamo di per come l'aveva messa giù Volpe certo Giorgia era un omicidio mascherato da suicidio ma invece è stato purtroppo un suicidio di un ragazzo che aveva fatto un uso troppo ampio di droghe non potrebbero aver manomesso l'auto di bontade no l'auto di bontade era perfettamente funzionante allora parliamo adesso dell'argomento centrale della puntata quindi per una ventina di una ventina di minuti cioè ma questi di satanico cosa ci avevano esattamente perché poi è questo il punto anche se il movente come ipotizzano gli inquirenti e come soprattutto comunicano i grandi mezzi di informazione italiani televisione libri giornali su internet è pieno cioè è molto semplice trovare informazioni sulle bestie di satana ci sono tantissimi libri ci sono tantissime cose e nella volgata popolare c'è l'idea di questi qua che pass che stanno fanno riti satanici tutti i giorni e che dedicano le proprie vittime a satana vi ho già letto l'altro giorno e quindi non vi rileggerò andate a sentire le altre puntate sempre prima di ascoltare questa che il PM Masini era già convinto da una prima perlustrazione dello chalet di gola secca che qualcosa di vagamente satanico si aggirava nell'aria quindi probabilmente questo preconcetto che si è formato dentro di lui poi in realtà è cresciuto fino a a diventare qualcosa di più di una vaga idea ma il primo che parla di una setta che poi in diavache si chiamano appunto besti di satana è il nostro Andrea Volpe che nel 2004 in una delle sue tante confessioni appunto parla di questa di questa setta setta il problema è che giustamente gli autori del libro che sto leggendo si pongono libro che a me piace molto come struttura che più o meno sto seguendo anche nel podcast nel senso che io avevo ipotizzato una struttura del podcast che è molto simile a quella del libro in realtà poi non mi piace come è scritto ma è un libro interessante si pongono un quesito fondamentale però nel capitolo dedicato appunto ai riti cioè la setta quali caratteristiche deve avere per essere definita setta e soprattutto la setta è una cosa per forza negativa innanzitutto no a livello sociologico una setta è semplicemente una serie di persone che si mettono insieme e che fanno qualcosa di diciamo non necessariamente un po' controcorrente è chiaro che dal punto di vista criminologico la setta è qualcosa che cospira per compiere azioni criminali quali sono innanzitutto le caratteristiche fondamentali di una setta in generale una setta ha un leader che manipola gli altri che è il leader carismatico cioè quante volte sentiamo parlare del leader carismatico cioè di quella persona che è in grado appunto col suo carisma con la sua personalità con il suo carattere di guidare gli altri spesso e già c'è il primo problema il primo problema fondamentale il primo problema fondamentale secondo me il problema di questa puntata e il punto anzi di questa puntata cioè questa setta satanica non ha un leader è una setta paritaria cioè nella versione che viene data in pasto sostanzialmente che viene data in pasto ai giornali e dai giornalisti ma chiaramente è giusto come tutti i casi devono essere una versione semplificata voi immaginate per esempio il caso di Yara è chiaro che viene semplificato dai giornali ma non perché i giornali siano o meglio non solo perché i giornali vogliono indirizzare o vogliono dare un indirizzo meglio vogliono dare un indirizzo preciso all'allora racconto ma perché è un caso talmente complesso che se io non riesco a renderlo frauibile nessuno si interessa quindi chiaramente devo quello che faccio io in un certo senso cioè io è chiaro che prendo tante informazioni cerco di condensarle cerco di dare una forma e cerco di renderle il più commestibili possibile il problema è che tutto ciò che viene scritto detto da me deve essere poi corroborato da qualcosa ovvero Paolo Leoni nel racconto classico di tutti i documentari è il leader carismatico e emotivo e spirituale della setta Paolo Azzileoni vi ho già raccontato la sua storia andate nella puntata sui protagonisti per per sentirla storia particolare ma Paolo Azzileoni e di questa cosa parleremo settimana prossima in realtà non c'è mai negli omicidi e voi potrete dire sì però è lui che li commissiona in realtà nessuno dei tre che confessano dei tre che collaborano cioè Volpe, Maccione e Guerrieri parla mai di decisioni prese da Leoni ma si parla sempre di decisioni prese dal gruppo come se il gruppo che è un'entità unica fosse in grado in maniera in maniera naturale in maniera democratica ecco di decidere Chiara deve morire Elisabetta deve morire Mariangela deve morire Fabio pure ma siamo qua mentre una prerogatica va a 64R è la parola quindi faccio fatica a dirlo una pre una caratteristica fondamentale una caratteristica scusate oggi va così ieri è stato troppo serio oggi devo dire pre creativa scusate una caratteristica fondamentale di una setta che ci sia un leader massimo che prende le decisioni che guida gli altri anche perché una caratteristica fondamentale di chi fa parte di una setta come appunto membro è che ha bisogno di un tutore emotivo cioè ha bisogno di qualcuno che prenda le decisioni per lui che sia in grado di riempire un vuoto interiore che sia in grado di mancare scusate di colmare la mancanza di personalità con quella personalità così forte no quella è la caratteristica di una setta un leader forte un leader massimo che prende le decisioni che mi toglie responsabilità che mi semplifica il mondo in modo che io non sia così in difficoltà nel decifrare il mondo perché il mondo tanto me lo decifra il mio leader e quindi io ascolto lui mi affido a lui io non non esistono delle sette dove tutti decidono perché sennò non è una setta è un'altra roba e quindi già si pone il primo problema della setta cioè qua non c'è un leader il leader che c'è non prende mai decisioni il leader che viene lo è scritto non prende mai decisioni non è neanche il leader satanico perché il medium no quello che nella puntata sui protagonisti vi dicevo che parlava con gli spiriti non è leoni ma è Mario Maccione leoni ogni tanto faceva qualche verso strano faceva un po' il pagliaccio ma ricordiamoci che erano dei ragazzi abbastanza su di giri si drogavano bevevano molto erano erano in un momento della loro vita dove erano molto esuberanti e quindi già si pone il primo problema fondamentale non c'è un leader a quel punto io sia nelle sentenze che nel libro che nei vari documenti un paio di settimane fa inizio a cercare qualche discrezione dei riti satanici che compivano queste persone nella sentenza non si fa riferimento a riti satanici e anzi l'associazione delinquere confine cade come accusa quindi sono gli stessi giudici che dicono che non esiste una setta non dico io gli stessi giudici dicono la setta non esiste e infatti nessuno è stato condannato per associazione per un'associazione criminale atta a nessuno quindi questa puntata non avrebbe senso dovrebbe durare un minuto dicendo signore manco i giudici dicono che esiste la setta satanica mettete like su instagram questa dovrebbe essere la puntata io la faccio un po' più lunga ma questo è perché sono gli stessi giudici che in sentenza non fanno riferimento a questo quindi voi pensate alla alla divergenza che c'è tra il racconto popolare sulle bestie di satana c'è gente che adorava il diavolo che faceva messe nere che faceva tutto quanto e utilizzava degli omicidi rituali per ingraziarsi il diavolo immaginate questa è il racconto che tutti conosciamo delle bestie di satana poi anche noi bestie di satana notate notiamo la differenza con la sentenza che non parla minimamente di queste cose i giudici in cassazione tolgono tutto l'apparato di esoterismo non c'è nulla di tutto ciò e la cosa meravigliosa è che volpe maccione e guerrieri siccome intuiscono loro o i loro avvocati che questa via che si percorre questa questa pista satanica piace molto piace molto ai 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 giornalisti al pubblico agli inquirenti ai pm piace a tutti la percorrono e le cioni percorrona perché fornisce un movente e fornisce una storia che si è resa credibile a loro da solo vantaggi quello è il problema che se tu non hai fatto una cosa e te la devi inventare mi faccio un esempio io non ho mai fatto paracadutismo e non lo farò mai se voi mi chiedeste descrivi bene come è una giornata di paracadutismo io posso immaginarmi certe cose ma descriverla con esattezza sarebbe molto complesso e io ho avuto la stessa impressione cioè di tre persone che raccontano qualcosa che si che un pochettino c'era nell'aria poi dopo lo spiego ma sostanzialmente che non hanno mai vissuto e quindi abbiamo tre versioni diverse degli stessi eventi che adesso vi leggo ovvero andiamo a pagina 195 del libro che dice Andrea e Mario quindi Andrea Volpe e Mario Maccione dopo che dicono dopo aver parlato dell'esistenza della setta e aver parlato appunto di questa setta scusatemi che mi si apre tutto lì e aver parlato di questa setta che facevano dicono che non ricordavano alcun rituale alcuna formula perché gli inguimenti dicono bene ma cosa facevate e loro dicevano no no noi c'eravamo durante le messe nere però non ci ricordiamo nulla vabbè non sapevano la differenza tra plenilugno novilugno e luna piena ma fanno tutte e due riferimenti a dei libri che venivano utilizzati ovviamente Andrea Volpe cita il necronomicon soltanto che non esiste in realtà è una finzione letteraria adesso non entro non è un libro che non esiste in realtà e quindi Andrea a un certo punto messo un pochettino con le spalle dal muro dice che tutto quello che ricorda sono pentacoli disegnati a terra sulle cui punte quindi sulle punte del pentagono del pentacolo scusatemi si disponevano i membri storici della setta ma non Andrea Volpe lui stava in disparte perché lui assisteva ma non partecipava alle messe nere ovviamente notiamo tutti i puntini che si vanno a delineare in questa vicenda cioè Andrea Volpe che in tutte le sue confessioni non si assume mai la responsabilità lui c'è sempre ma non è mai colpa sua nel primo omicidio lui in realtà dà solo una coltellata poi se ne vuole e fa tutto sapone con Mariangela parte un colpo poi non si ricorda poi è ancora viva e la finisce sapone nelle messe nere partecipano tutti tutti quanti ma lui non partecipa dell'omicidio di bontale è sapone che gli dice lo fai tu lo facciamo noi gli dai soldi e tutto quindi capite come la sua confessione apre un mondo ma lui si ne tira sempre fuori questo è molto interessante Pietro Guerrieri non sa chi fosse presente a questi rituali e non parla neanche di posti fissi perché a un certo punto Volpe fa riferimento tra quattro location dove ciao Andre dove secondo lui sarebbero andati a fare la appunto questi questi rituali satanici ed effettivamente in una fabbrica abbandonata c'è una scritta su un muro con scritto tipo ozzi capo figlio di satana una roba così probabilmente in quella fabbrica abbandonata erano andate a drogarsi e a fare qualche seduta spiritica perché maccione effettivamente viene riportato da molte persone anche al di fuori dalle delle bestie di satana che ogni tanto si lasciasse andare a qualche seduta spiritica ma attenzione che è una seduta spiritica non è una messa nera con degli omicidi da dedicare a satana è una seduta spiritica un po' anche folcloristica noi dobbiamo sempre contestualizzare bene le cose il satanismo è una roba seria io non so nulla di satanismo quindi non parlo di satanismo ma il satanismo vero è una roba seria poi può piacere non può piacere sono d'accordo non sono d'accordo questo è un altro discorso loro facevano come qualcuno ha già scritto vedo in chat su twitch e come tutti gli esperti di satanismo che hanno studiato la vicenda sono concordi nel dire fanno parte del cosiddetto satanismo acido se trovo la punto il satanismo acido ve lo ve lo trovo ma non è molto importante perché eccolo qua satanismo acido vi dico questa definizione che è dal libro che siccome è perfetta è un satanismo fai da te di alcuni minorenni che di solito si mischiano con qualche maggiorenne che fanno cocktail caserecci cioè mettono insieme sesso droga alcol musica orge rituali violenze di vario genere alcune volte anche letali ma è un pretesto per dar sfogo giustamente alle proprie perversioni alla voglia di trasgressione è il risultato del disagio della noia di una confusa ribellione e a volte anche disturbi mentali le ritualità nei boschi nei cimiteri sono inventate le conoscenze sono approssimative e sono create sul momento non hanno contatti con i satanisti veri questo è quello che succede quindi non serve andare molto oltre questo è quello che succede succede che è un satanismo fai da te che dove prendono questi ragazzi sicuramente anche dalla musica perché ve l'avevo già detto nel metal parte della coreografia della musica metal è anche quello ma da gruppi famosissimi Iron Maiden Slayer e compagnia che utilizzano questo anche come metafora del male quindi anche da quello ma da film film è pieno di questa cosa da storie di crimini passati Richard Manson per esempio quindi da tutta la cultura popolare tirano fuori qualche informazione di qua qualche informazione di là e la voglia di trasgressione li porta a fare questi atti quindi sicuramente e qua vi do un particolare succulento io sono stato condannato da eh sì condanna buonanotte sono stato condannato però adesso ancora da nessuno sono stato contattato ci ha mandato un'email una ragazza che di cui ovviamente non farò il nome anche perché non me lo ricordo ma che ringrazio e ti risponderò all'email se ci senti che mi ha che mi ha appunto mi ha scritto e mi ha detto appunto che lei conosce molto bene i protagonisti di questa triste storia e conosce è ancora adesso in contatto con Volpe con Sapone con tutti e che appunto lei nega clamorosamente la pista satanica cioè questo dice satanismo non sperava niente era il gruppo che creava un po' ma mi dice mi ha detto che appunto per dirvi Volpe non gli frega niente neanche della musica metal che invece doveva essere un po' quello che metteva insieme i ragazzi erano i ragazzi un po' sbandati con voglia di trasgredire con voglia di di provare qualcosa di nuovo di sentirsi superiore come succede anche a quell'età poi figurati tutto amplificato dall'alcol dalle droghe tutto quanto quindi diventa proprio una situazione ingestibile ma di pista satanica non c'è nulla e ripeto lo dico io lo dicono i giudici e lo dicono tutto quello che si è riuscito a trovare il problema è che saltuariamente escono fuori alcuni personaggi per esempio è uscito un un testimone nel 2010 mi sembra che è adesso non mi ricordo vediamo se lo trovo al volo proprio se non ci metto più di 30 secondi vi dico anche chi è aspettatemi proprio aspettate proprio un secondo perché l'ho già trovato cioè incredibile oh esatto a un certo punto nel 2010 a studio aperto live due giornalisti trovano parlando di piste sataniche e compagnia parlando delle bestie di satan mantivano fuori un ragazzo che assolutamente non vuole farsi non sappiamo il nome quindi non vuole farsi vedere non vuole si camuffano la voce tutto quanto che è stato che è stato dentro le bestie di satan che era molto amico di un ragazzo adesso vi dico anche come si chiama di un ragazzo che si chiama adesso vi spiego bene datemi sul tavolo che mi serve christian frigerio quindi un amico di christian frigerio christian frigerio è un ragazzo che aveva delle amicizie dentro la bestie di satan che un certo punto un giorno scompare non verrà mai più trovato un suo amico nel 2010 appunto trovato da studio aperto live quindi quando la vicenda era un po' sopita e soprattutto grazie mille patatutubaba patatutbutaba grazie mille faccia la prossima ti mando un bacio un abbraccio un cuore per tutto il per il la sub scusate torno al punto questo amico di frigerio nel 2010 ci racconta che anche lui anche questo amico non so il nome se no non lo chiamerei l'amico ha fatto parte per un breve periodo ma una storia adesso non ve la racconto perché è lunghissima delle bestie di satana e ha raccontato delle robe allucinanti cioè raccontava che durante queste messe nere venivano prelevate alcune prostitute infatti c'è anche tutta la storia delle prostitute scomparse secondo le c'è anche le bestie di satana e cosa facevano venivano spogliate più o meno grazie mille a bea wow per l'abbonamento oggi oggi un sacco di abbonati grazie mille ragazzi un bacio un abbraccio un cuore le ragazze venivano prese queste prostitute spogliate veniva fatto bere del sangue fino a farle strozzare poi iniziavano a mordere i componenti della setta indiavolati mordevano i seni qualcuno mordeva il gluteo qualcuno invece con un attrezzo medievale di tortura staccava brandelli di pelle insomma delle torture allucinanti con tante persone che facevano parte di queste messe nere che poi si concludevano con questo omicidio della prostituta sangue beva un casino la roba ovviamente mai provata mai dimostrata mai neanche vagamente cioè non c'è il problema e con questo io chiuderei perché non voglio neanche tirarla troppo lunga il problema qual è banalmente che non c'è mai stata neanche mezzo indizio non c'è mai stato neanche una mezza confessione che concordava con con l'altra vi faccio un esempio se i tre ormai i nostri cari confessori maccione volpe e guerrieri avessero detto tutti la stessa cosa in un modo in un senso nell'altro quella cosa potrebbe essere successa ma non c'è neanche quello non c'è neanche quello non c'è nulla c'è anche loro tradicono le cose diverse e in più un'altra cosa che ci tenevo a dire si fa riferimento volpe fa riferimento spesso ai motivi che hanno portato agli omicidi e ai suicidi indotti dal fatto che queste persone chiara piuttosto che andrea a bontade piuttosto che eh volessero uscire dalla setta la setta non odzi non sapone non la setta decide che non possono e quindi li ammazzano che dalla setta non si esce in realtà noi sappiamo perché ce l'hanno detto che nel corso degli anni tantissime persone decine di persone sono entrate hanno bazzicato un po' quel gruppo sono usciti un po' rivolte con quel gruppo l'hanno frequentato sono stati un po' con loro e poi sono usciti perché in realtà non c'era nessuna setta cioè concludo dicendo che questa setta non è mai esistita erano dei ragazzi che sicuramente per fare i coglioni non potevo dire le parolacce scusate per fare gli stupidotti hanno fatto delle sedute spiritiche sono andati magari in qualche fabbrica abbandonata e sono andati magari in una chiesa di notte a drogarsi a bere a fare gli scemi a fare delle orge ma sicuramente ma sicuramente che abbiano fatto una serie di stupidate pazzesche lasciando stare gli omicidi ma prima che abbiano fatto le stupidate pazzesche ma non c'è dubbio però un conto è essere degli stupidotti un conto è fare delle messe nere finalizzate all'omicidio in nome di satana ci siamo che sono cose diverse che poi questo è il punto perché se noi avessero detto degli sbandati con la passione per l'esoterismo che facevano che hanno commesso va bene non dei figli prediletti del demonio che hanno perché questo non è vero semplicemente non è vero ho letto tutta la chat e vi rinvito a scriverci io chiudo oggi questa puntata perché mi sembra di aver detto le cose che avevo in programma di dire vi invito a scrivere tutto quello che non voglio leggere tutta la chat perché poi ci metto sei ore di riscrivermi tutto su su telegram così poi ce lo leggiamo con calma e lo commentiamo io intanto vi saluto e vi ringrazio continuate a seguirci continuate ad ascoltare anche i nostri podcast spero che la puntata di ieri e di oggi vi siano piaciute quindi fino a settimana prossima non ci saranno più puntate anche perché domani domani c'è la chiamata con i Patreon però quindi siete ancora in tempo per iscrivervi a Patreon e far parte della chiamata di domani sera io intanto vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima con credo la fine di questa trattazione sulle bestie di Satana ciao a tutti